Cari amici, ben trovati ancora all'appuntamento con l'oroscopo segno per segno. Diamo un'occhiata alle temperature astrali previste per oggi. Ariete, sole e foschie, il vostro partner è più brillante, non abbiate paura di restare nell'ombra, ma cercate di essere suoi complici. Presi da 100 impegni non vi fermerete un attimo, tutti chiederanno il vostro aiuto, dall'amico alla famiglia. Per il toro tempo un po' capriccioso, i pianeti vi rendono nervosi, decisamente un po' troppo superficiali, al punto che non vi accorgete di alcune cose che stanno capitando intorno a voi. Aprite gli occhi e fate caso alle mille opportunità che stanno prendendo forma. Nel cielo dei gemelli nubi in diradazione, vita di coppia piacevole, ogni nube sembra dissiparsi. Se non avete legami cercate di lasciarvi andare senza ragionare troppo. Una intrigante occasione deve essere colta al volo se non volete invidiare qualche amico più svelto di voi. Cancro temporale in avvicinamento, negli ultimi giorni con il partner non siete stati certo degli angioletti. Cercate di spiegargli che è solo un periodo di stress dovuto anche ad un problema legale. In arrivo lettere da un parente. Leone, caldo e sole, vi aspetta una giornata serena in cui riceverete il meritato premio per il vostro lavoro. In serata tanto spensierato divertimento per iniziare un weekend scansonato, proprio quello che vi serve per ricaricare le batterie mentali e le energie di cui avete recentemente abusato. Nel cielo della Vergine c'è aria frizzante. Se nel lavoro non è andato tutto come previsto non demoralizzatevi ma concentratevi sui vostri punti deboli, magari facendo un corso di aggiornamento e presto avrete la vostra rivincita. Bilancia, anticiclone in vista. Qualcuno che non vedevate da tempo tornerà a farsi vivo con la scusa di farvi in anticipo gli auguri e il vostro cuore batterà forte. Non buttatevi subito nelle sue braccia ma non fate neppure mistero di quello che provate per lui. Scorpione, per voi venti in rinforzo. Siete particolarmente suscettibili e facilmente irritabili e questo potrebbe creare situazioni di tensioni con le persone che vi stanno vicino. Sappiate dire le cose con il giusto tono. Piccola ma significativa svolta nel lavoro. Sagittario, la quiete dopo la tempesta. In amore e nell'amicizia vivrete oggi momenti molto entusiasmanti e avrete la conferma che anche stavolta la vostra sincerità e il vostro fascino hanno fatto centro. Capricorno per voi invece c'è un po' di burrasca. Cercate di avere più fiducia nelle vostre capacità e mostrate senza timore le vostre competenze. Solo così sarete apprezzati ed ammirati. In ambito familiare siete intrattabili e del resto non avete intenzione di raggiungere compromessi. Per l'acquario rovesci diffusi in vista, la situazione è professionale stagnante e questo blocco sta mandando in crisi tutte le vostre certezze. L'aspetto dissonante della luna fa pensare che forse le vostre aspettative erano un tantino esagerate. Il cielo dei pesci ancora per qualche giorno rimane coperto. Oggi dovrete affrontare una prova molto faticosa ma necessaria in campo lavorativo. Sicuramente riceverete dei preziosi e sinceri consigli. Mettete un attimo da parte il vostro arrivismo. Oggi non ne trarete alcun vantaggio. E con il segno dei pesci si conclude anche oggi il nostro appuntamento ma naturalmente torna domani e io vi aspetto come sempre. Arrivederci! Grazie a tutti!